Il trattamento sulla diastrofia muscolare di Uschene Becker in questi ultimi vent'anni anche a fronte di nessun trattamento di terapia, dei risultati di ricerca scientifica, ha portato alcuni trattamenti sull'aspetto cardiologico, pneumologico, sulla fisioterapia, sull'uso di cortisone a cambiare il quadro clinico della patologia. Infatti la vita media dei ragazzi si è notevolmente allungata in questi ultimi anni. Si è allungata grazie all'intervento dei clinici ma anche grazie all'associazione Parent Project che ha messo in campo tutto quello che era possibile fare per allungare. I risultati sono evidenti. Quello che purtroppo non è stato dato seguito a tutto questo cambiamento è la differenza che c'è stata e c'è ancora tra la presa in carico dal punto di vista pediatrico e dal punto di vista adulto. E' qua che noi registriamo e chiediamo alle istituzioni, chiediamo al governo la stessa uniformità di trattamento in tutte le regioni italiane. C'è la corretta presa in carico dal punto di vista adulto e tutto nel soddisfare i bisogni che i nostri ragazzi hanno, soprattutto dal punto di vista pneumologico e cardiologico. Perché tutto questo sta portando tante famiglie, tantissime famiglie ad uscire dalla propria regione, dal proprio punto di riferimento alla ricerca di centri che possono soddisfare queste esigenze e questi bisogni. Però c'è da considerare che, da un lato, i ragazzi crescono, diventano adulti e la loro vita aumenta sempre più, anche è vero che aumenta l'età dei genitori. Anche i genitori diventano anziani. E considerando che l'Italia è una nazione stretta e lunga e i servizi non sono ottimali, non riescono a soddisfare bene le esigenze di una famiglia con un ragazzo disabile in carrozzina, spostarsi in treno è difficile, altrettanto in aereo l'unico mezzo comodo di spostamento rimane l'autovettura, l'automobile. Ma, come ho detto, se è vero che i ragazzi crescono, i genitori diventano sempre più anziani, anche loro cresce una difficoltà di spostamento. Grazie.